Oggi a Rogudi abbiamo consegnato gli attestati di partecipazione al corso di recupero e tutela e valorizzazione della lingua greca di Calabria che abbiamo realizzato insieme all'Università Dante Ligieri, che in realtà è l'istituzione che ha istituito questo corso in collaborazione con il Circolo Culturale Palechenea e il Circolo Greco Delia di Bova Marina. Un ringraziamento particolare va a tutti i corsisti che oggi hanno acquisito questa nuova professionalità, questa nuova specializzazione e nello stesso tempo un ringraziamento a tutti i docenti che hanno reso possibile le lezioni in questi sei mesi. Abbiamo fatto un percorso che è quello quindi di valorizzare le minoranze linguistiche, in particolare la minoranza greca di Calabria presente nell'area grecanica e in particolare nell'isola lenofona, cioè vale a dire nei cinque comuni maggiormente lenofoni che sono Rogudi, Roccaforte, Condofuri, Bova, Bova Marina, Gallicianò. E quindi abbiamo consegnato gli attestati insieme a chi ha sponsorizzato, ha voluto realizzare questa iniziativa, cioè il Circolo Culturale Palechenea, ma anche l'istituzione più importante del corso. Cioè vale a dire l'Università Dante Ligieri di Reggio Calabria, oggi rappresentata dal porrettore, il professore Antonino Zumbo, che passo la parola. Grazie. È un momento particolare e felice per noi, nel senso che abbiamo favorevolmente appoggiato questa iniziativa del Circolo preseduto dall'Avvocato Maesano, che ha agito in sinergia col Circolo Delia preseduto dal professore Vieni, manifestando così quella che è l'attenzione che un istituto di alta formazione come l'Università per Stranieri ha verso il territorio, un'attenzione particolare verso l'area grecanica. E siamo particolarmente lieti che si sia varato questo corso di perfezionamento, che ormai è giunto, se non vado errato, alla sua terza edizione, e ne avrà una quarta, nella direzione di conservare la tradizione non soltanto linguistica, ma la tradizione culturale di quella che è l'ascendenza, magno greca o bizantina che sia, in ogni caso greca, di questa isola culturale, che va valorizzata in quel panorama, diciamo così, della grande globalizzazione, come momento di conservazione di una precisa identità culturale. Da questo punto di vista, le nostre felicitazioni ai corsisti che con tanta abnegazione hanno seguito questo corso, che ha registrato la presenza addirittura di un corsista che viene da Sante Eufemia, di un altro che è proveniente da Cardedo, il che la dice lunga su quanto ancora la problematica culturale dell'area grecanica attiri. E da questo punto di vista, caro Avvocato, ci sarà sempre il sostegno dell'Università per Stranieri di Reggio Calabria, Dante Alighieri. Oltre al corso di formazione in lingua greco-calabro, il Paleghenea ogni anno, in questo periodo, cerca di valorizzare le sue tradizioni. Per questo motivo, il Circolo Culturale Paleghenea, questa sera, ha voluto realizzare i cosiddetti mercatini di Natale e la Castagnata, proprio per garantire un recupero di appartenenza a questa comunità e alle nostre tradizioni. Quindi, un ringraziamento a tutte le socie del Paleghenea, che hanno voluto rendere omaggio, dobbiamo dire, a questo momento importante, attraverso i loro lavori, che sono frutte delle proprie mani, proprio a mano libera, dobbiamo dire, e quindi è stato un piacere a valorare, perorare, quindi, la loro causa e ciò che hanno realizzato questa sera. Ringraziamo, naturalmente, tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, le istituzioni, ma anche i giornalisti, la televisione ed i corsisti, ma anche, dobbiamo dire, coloro che hanno voluto esporre, fare i mercatini nella nostra realtà di Roghudi, all'interno del Circolo Culturale Paleghenea. E, infine, naturalmente, ci troviamo in un posto particolare che è l'Oratorio di Roghudi. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione delle suore presente nella nostra realtà e un ringraziamento anche al parroco, alla nostra parrocchia, che hanno voluto e hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. Grazie. Siamo all'interno del Circolo Culturale Paleghenea, dove stiamo visitando i mercatini di Natale. Abbiamo la signora Angela che ci spiega un attimino come... Sono una socia del Circolo, sono una socia del Circolo, è un circolo molto affiatato, molto unito e cerchiamo di far risaltare un po' le antiche tradizioni. E sono Rauca, scusate, le antiche tradizioni. Allora, abbiamo fatto un po' di cose che facevano una volta i nostri anziani. Questi sono i tipici cincini di juta. La signora è più... l'altra socia è più brava a definirle. Comunque sono i cincini di juta, le cose che facevano una volta, presse i pini. Da notare bene queste sfere di Natale, queste sfere di Natale, che ci sono i paesaggi proprio di Rogù di Vecchio. Paesaggio di Rogù di Vecchio, Rocca del Drago. Insomma, siamo proprio amanti di questo paese e cerchiamo di riportarlo un po' dappertutto. Le tipiche pigne... Quindi il Natale si ritorna all'antichità, alle vecchie origini. Il nostro circolo si chiama Paleagenea, vuol dire anticastirpe. Paleagenea. Paleagenea, anticastirpe. Quindi, appunto... E quindi queste sono tutte cose che avete fatto voi, a mano, con calma. Con calma, con molta pazienza, con molto amore e anche con molta allegria. Perché ci siamo divertite tanto. Certo. E questi mercatini dureranno per... È cominciato ieri questo mercatino, oggi e domani. È cominciato così, è un inizio, un abbozzo. Per vedere come fai, è la prima volta come circolo che facciamo il mercatino. Quindi è da organizzarci meglio. Vediamo altre... Anche tutto questo è fatto... Gli addobbi per l'albero, diciamo. Sì, gli addobbi per l'albero, sia fatti di gesso, che fatti di pannolenci. Questo è un tipico tessuto... Come si chiama? Pannolenci, giusto. Tutto fatto a mano. Complimenti. Grazie. Complimenti, veramente, andiamo avanti. Qui c'è la signora che ha fatto, appunto... Centrini. Ecco, i famosi tipi di centrini che si mettono sul tavolo notte di Natale. La addobbare per le feste natalizie. Vabbè, anche le cose un pochino... Queste non c'erano una volta, però ecco... Per... Sì. Questo è anche fatto tutto a mano. L'albero di Natale, con... Le beve... Tutti i centrini sono questi. Sì, sì, questo è il reparto uncinetto. Che è la signora, la nostra socia. Vabbè, scappa. Tutto il reparto uncinetto. Qua invece? Invece no, sono delle persone che sono venute ad aggregarsi con noi e... Non fanno parte del... Del circolo. Del circolo, però fanno parte del mercatino. E non... Dite voi. Oggettini, fatti a mano. Oggetti, oggetti che servono sempre comunque per questo periodo di Natale, no? Sì. Qui invece... Complimenti, andiamo avanti. Sono sempre cose fatte a mano. Mentre qui... Un attimo, qui c'è la socia che vi spiega il perché di queste... Di queste iniziative. La signora Giussi... La signora Giussi, buonasera. Salve, salve. Dunque, qua stiamo facendo una raccolta per l'asma, che è una malattia rara. E sono praticamente dei pacchettini di cioccolato e con semplici 5 euro si dà una mano a questi bambini che hanno difficoltà motorie molto serie. E anche merito purtroppo a qualche malato di questa malattia. Speriamo insomma che la gente venga... Quindi è un contributo a chi... Sì, esatto. E a livello della campagna, a livello nazionale che si fa. Questi sono tutti oggettini che avete preparato voi a mano anche per... Tutti fanno parte anche per questa iniziativa. No, solo i pacchetti. Sì, solo questa, sì. Il resto è tutto fatto a mano, dalla signorina. Ecco, vediamo mentre sta facendo un cappellino, guarda. Esatto. Se il cameraman riesce a inquadrare. È velocissima. Velocissima, si fa... In quanti minuti? Ah, ci vuole un quarto. 15 minuti, sì. Però ecco, la tecnica, diciamo che... Sono molto belli questi da fare come segnaposto, oppure per mettere sulle bottiglie, periodo natalizio. Sì. Questi anche per l'albero, insomma, sono... Sì. Sì, da appendere all'albero. Anche come dopo natalizio, sì. Dopo natalizio, vedi che sono carine queste cose. Sì. Complimenti perché sono delle cose veramente... Fa piacere vederli e comunque fa piacere vedere anche come si può fare in un quarto d'ora, come si realizza. Ecco, un cappellino di questi già che si può attaccare all'albero. Di vari colori, no? Ecco, il nostro cameraman ne voleva uno di colori particolari, però non ce li abbiamo. E quindi non è possibile. Francesca la conoscete, è la cantante dell'Italante. Sì, sì, sì. Francesca è brava in tutto. Sì, è un artista tutto tondo. Sì, sì. Ecco. Senso, per la preparazione, come ti sei impostata questo lavoro? Come ti è piaciuto da sempre farlo? Sinceramente è una cosa che ho scoperto forse un mesetto fa, più o meno, perché diciamo che ho un pochino una passione per la lana, per fare tipo i cappellini, oltre questi, anche lavori con la lana, cose così. Quindi ho pensato magari fare qualcosa per Natale, ci ho pensato un po', ho detto magari faccio qualcosa di piccolo che rappresenti la neve o comunque il Natale in sé. Ho detto faccio dei cappellini, però inizialmente pensavo, provo ad arrotorarlo tutto qua, mi sarebbe servita troppa lana, sinceramente. Poi mio padre mi ha detto provo a fare un nodo alla marinara e quindi sono riuscita a fare una cosa così, con un rotolo di lana posso fare di questi cappellini una ventina più o meno. Poi dipende sempre dalla misura, se ne sono quelli più piccoli, tipo questo qui, che è fatto con il rotolo del... non mi ricordo che cosa, ma beh. E quindi, insomma. Complimenti, comunque abbiamo visto l'inizio, ecco, poi magari... Viene girato, questo viene girato così, si lega all'estremità e si fa una specie di pompon tagliandolo, diventa così. Complimenti, brava Francesca, magari torneremo quando è completo poi, ecco. E mentre giriamo ancora in questi mercatili, qui c'è il reparto lana. Qui c'è il reparto lana. Ecco qua, vediamo. Sì, è semplice il reparto lana perché ci ricordiamo che i nostri anziani erano sempre con l'uncinetto, ferri e le tipiche sciarpe che facevano una volta, le scarpette di lana. Ci stiamo riproponendo un po' tutto... Sì, un tuffo nel passato. Un tuffo nel passato, mi ricorda qualcosa. E i tipici ponch, insomma, stiamo facendo un pochino... Certo, c'è anche della lana nuova che una volta non c'era, stiamo parlando di... Però, non andiamo avanti. Qui invece è un altro stand, però non fa parte del ciclo, ma fa parte del mercatino. Con vari oggetti che spiegheranno loro, oggettini tipici. Sì, sono oggettini fatti a mano, sia all'uncinetto che con perline. Poi, niente, ci mettiamo noi ogni tanto ad assemblare i vari pezzi e poi metterli in esposizione. Sono tutti realizzati a mano, come ho detto prima, anche i centrini, anche i bicchieri, portabicchieri, sottobicchieri, anche dei cestini fatti così con dello spago e così via. E anche oggettini di Natale. Siete un gruppo di persone che fate questo? Sono tre. Sì. E quindi poi nel periodo di Natale... Anche... Non a Natale. Non solo a Natale. Quindi questi sono oggettini che comunque, voglio dire, possono vendersi, vendersi, metterli naturalmente in esposizione più che altro anche negli altri periodi. Sì. Va bene, complimenti e buon lavoro. Sì, grazie. Suore, l'oratorio dove appunto lavorano le suore con molte persone che vengono anche da Merito, Lebbe e Dittroni. E fanno tutti questi lavoretti durante la settimana e l'hanno proposti qua. È una bella iniziativa, ci sono tante persone che qua la signora vi può dire cosa fanno il pomeriggio? No, noi veniamo il martedì e il giovedì pomeriggio e facciamo questi lavoretti insieme agli indiani, i marocchini, i vari extracomunitari e la gente del posto che viene qua il pomeriggio a imparare e altra gente ad insegnare. Quindi diciamo che ci sono... Laboratorio. Laboratorio, ecco, un piccolo laboratorio anche di extracomunitari che... Sì, vengono gli extracomunitari, le extracomunitari, insegnano loro a noi un tipo particolare di uncinetto che fanno loro e noi insegniamo il nostro metodo. Bene. Facciamo scambio culturale. Scambio culturale. Bene, grazie. Ci troviamo all'angolo dei profumi e qui, più o meno, ecco, qui abbiamo due belle ragazze, una signora, una signora, una ragazza, comunque, due signore che ci spiegano un po' come funziona quest'angolino. I brochet, in pratica è una vendita diretta, francese, con prodotti vegetali. Noi abbiamo una vasta gamma di prodotti che parte dai profumi, cosmetici, prodotti per massaggi, prodotti integratori per dimagranti e tutto il resto. Ad esempio abbiamo i tè che servono per dimagrire, comunque per sgonfiare, quindi per drenare, oppure abbiamo latte corpo, bagno schiuma, mini bagno schiuma per vari set, in questo caso per Natale. Noi siamo due capogruppo che comunque facciamo esposizione di questi prodotti per vedere comunque se ci sono persone che vogliono lavorare o comunque usare i nostri prodotti. Ecco, in pratica c'è gente che può lavorare con questo come? Basta contattare comunque l'azienda o comunque la responsabile di zona o il capogruppo, sempre di zona, e quindi noi diamo la possibilità comunque di avere un incentivo in più all'interno di casa. E questo vi trovate adesso qua per i mercatini di Natale e comunque questi tutto l'anno si può? Sì, sempre, in base a dove ci si spostano cerchiamo di andare. Il risultato qual è? Il risultato è ottimo, abbastanza ottimo. Questa sera non solo mercatini, non solo tante, anche le castagne. E qui abbiamo il presidente, il vice, chiedo scusa, il vicepresidente Luciano. Buonasera a tutti. Niente, noi è il primo anno che abbiamo organizzato un mercatino di Natale con tutti i soci, d'accordo? E abbiamo pensato stasera di fare una castagnata, che penso che sia la migliore cosa. E' il periodo di Natale, le castagne vanno. Noi stiamo tentando di fare il nostro meglio possibile come associazione culturale. Vediamo, quest'anno è andata così, auguriamo che l'anno prossimo la facciamo molto meglio. Ma sicuramente, bisogna partire intanto. Poi piano piano... Abbiamo iniziato a fare questa manifestazione, augurando che un altro anno continueremo ancora, con molto più impegno, con molta più organizzazione, perché, diciamo, si è organizzato in pochi giorni. E in pochi giorni, diciamo, siamo riusciti a fare qualcosa di buono, anche all'interno del paese, perché, diciamo, Rocuti merita di fare questo, sia come paese, sia come cittadine, sia come cultura, con le sue tradizioni, perché, diciamo, Rocuti, castagne, noci, fichi, è la sua cultura, la sua tradizione. Come vedi, noi abbiamo tentato di fare questo. Sperando che è uscito bene, noi ringraziamo tutti i partecipanti che sono venuti. Poi c'è stato anche le consegne dell'attestato che il nostro Presidente ha consegnato a tutti i partecipanti. Auguriamo che dal prossimo anno in poi facciamo meglio e che lei è presente, signor Pilippo, qua da noi. Con grande piacere. Grazie, il piacere è tutto nostro. Naturalmente volevo dire che tutti i soci del Circolo Pallenea ringraziano tutti i partecipanti, naturalmente ringraziamo voi di Traduzione 95 per essere fra di noi e auguriamo buone feste, ovviamente, a tutti. A tutti di cuore, che un Natale porta bene, veramente, di amore, felicità per tutte le famiglie, che ne abbiamo bisogno tutti in questo periodo. In questo periodo, effettivamente, ne abbiamo tutti bisogno. Allora, lei aspetta e le diamo anche a lei un sacchettino così assaggia le nostre castagne come sono fatti. Certo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.